Homo Sapiens, non solo musica, non solo musica, le vostre canzoni, l'amore, ma anche tanti tributi a tanti gruppi. Questo è stato un bel progetto che avete portato avanti anche qualche anno fa, appunto, in una serata, tanti tributi a tanti vostri colleghi. Ora rientra nel titolo del concerto che facciamo, 30 anni in una sera. Praticamente non facciamo ascoltare solo le nostre canzoni, ma partiamo dagli anni 60, 70 e 80, che sono un po' i tre decenni che ci stanno addosso, quelli che abbiamo vissuto. Che sono strepitosi. Quindi, tanto per dare un accenno, visto che Marzio parlava di 75, all'epoca era tutto molto in ritardo, non come adesso che digiti un numero con un cellulare e ti risponde pronto sì, l'americano dalla parte di là. Allora, in America nel 1975, mi pare, uscì il film, stato ordinato. C'ero io a comprare lo shampoo. C'erete a comprare lo shampoo. Uscì nel 75, da noi arrivò nel 76. Ha consacrato anche in Italia un gruppo che già aveva all'attivo tutta una serie di successi. Allora, noi abbiamo pensato di dedicare a questo grande gruppo, i Bee Gees, un medley che vi facciamo ascoltare. Quindi balliamo tutti con la musica degli Homo Sapiens e quindi il tributo ai grandi, unici Bee Gees. Allora, noi abbiamo pensato di dedicare a questo grande gruppo, i Bee Gees. Allora, noi abbiamo pensato di dedicare a questo grande gruppo, i Bee Gees. Allora, noi abbiamo pensato di dedicare a questo grande gruppo, i Bee Gees. Allora, noi abbiamo pensato di dedicare a questo grande gruppo, i Bee Gees. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione